Due anni di attesa, finalmente il taglio del nastro del trincerone ferroviario est in centro a Salerno. La copertura dell'area di circa 4.800 metri quadri, compresa tra Via Nizza e Via Balzico, ha consentito la realizzazione di una nuova piazza, con 30 stalli di parcheggio, auto a rotazione e superficie attrezzate per lo sport e il tempo libero. Lavori per circa 10 milioni di euro. Presente anche il presidente della regione, Vincenzo De Luca, il sindaco Vincenzo Napoli, il vice sindaco Mimmo De Maio. È sicuramente uno spazio significativo per quanto riguarda il parcheggio, la grande piazza pubblica, ma non è solo questo, ma è soprattutto l'infrastrutturazione che è al di sotto, perché questa piastra adibita a parcheggio e piazza copre la viabilità che è al di sotto della nostra quota, dove ci troviamo adesso, al di sotto del fascio dei binari, perché si collega con via Santi Martiri, nel sottopasso di via Santi Martiri. Questa infrastruttura sotto già esiste, dovremmo fare soltanto il foro per arrivare dall'altra parte e nella direzione verso nord via Cacciatori si collega con oltre via dei Principati, quindi collegando queste due parti della città. E in occasione dell'inaugurazione il governatore De Luca ha annunciato ancora una volta il taglio del nastro di Piazza della Libertà. Uno dei simboli della nuova Salerno ha precisato la città che abbiamo sognato. Cambia la sua immagine, dobbiamo essere bravi a conservare queste belle opere che abbiamo creato, per le quali qualcuno di noi ci ha rimesso la vita, a concluso De Luca.